C'è una cosa che ha sempre detto l'ingegner Negri e la cosa è questa, tutti i delinquenti che non pagano per le illegalità che svolgono prima o poi ci riproveranno. E naturalmente così sta avvenendo. Barone Vassallo, siamo al 23 dicembre 2023. Buonasera a tutti. Allora, ieri ho fatto un video sul signor Guido Giustetto. Per chi volesse andare a vedere le sue parole proprio dette, lo trova su questo link di YouTube. E vi assicuro che è importantissimo ascoltarlo perché può sembrare uno scherzo come vi ho detto ieri. Ma non lo è per nulla. In quell'intervista, appunto, Giustetto diceva che dobbiamo piantarla, di fare degli esami del sangue inutili, degli screening più di tot volte perché stiamo inquinando l'ambiente. Ricordava il fatto che una macchina per le TAC in un anno produce la stessa CO2 di 700.000 km fatti in macchina. Insomma, andatevelo a guardare perché è una cosa molto molto seria. Sono dei piccoli segnali, sono delle piccole scatti, sono dei piccoli punti che poi dopo crescono, crescono, crescono e arrivano al punto di non ritorno. Ma parliamo di notizie importanti, importantissime, notizie importantissime che si rifanno a quello detto prima. Covid. L'ondata di Natale. Oltre 60.000 casi in sette giorni. Federpharma. La richiesta dei tamponi è cresciuta del 30%. Oltre 60.000 persone colpite dall'infezione nell'ultima settimana. In crescita di quasi il 10% rispetto ai sette giorni precedenti. L'ondata di Covid arriva alla soglia dell'RT1 con un'impennata incredibile da 0,80 a 0,99 che lo porta al limite della fase epidemica. Come registrato dall'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute insieme all'Istituto Superiore di Sanità. Quindi dal rapporto non emergono elementi di preoccupazione per quanto riguarda i ricoveri. È stabile il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, 11,8 rispetto a 11,9 della settimana precedente. Mentre cresce leggermente l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Siamo passati dal 3,1 rispetto al 2,7. Naturalmente riferito ad una settimana fa. Nell'ultima settimana si conferma che la fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale è quella degli ultranovantenni. Con 237 casi ogni 100.000. Questa fascia di età è anche quella con il più alto tasso di ricoveri e la più alta mortalità. Ultranovantenni naturalmente avrebbero davanti a sé altri 30-40 anni di vita. Quindi è un dato molto preoccupante. Tra le variante è in forte crescita la JN1. Sembra un po' i motori Land Rover. 12J, 19J, 200TDI. Disegnata come variante di interesse dall'OMS per i giorni scorsi. Nell'ultima settimana è diventata la variante dominante, superando la EG.5. Questa è probabilmente la targa di una macchina del 2011. È del 49,1% rispetto al 20,9% della settimana precedente. Anche se l'incidenza dei casi risulta in aumento in quasi tutte le regioni, resta una forte variabilità geografica. L'incidenza più elevata è stata riportata in Abruzzo. Ricordiamoci che l'Abruzzo è la regione che ha fatto meno vaccini in assoluto. 224 casi per 100.000 abitanti, seguita dal Veneto e dall'Umbria. Strano perché in Veneto hanno dei vaccini molto efficaci distillati con l'alambicco. La più bassa in Sicilia, 3 casi per 100.000 abitanti, seguita da Sardegna 18 e Basilicata. L'ondata partita a metà novembre ha avuto ripercussioni anche sulle farmacie. Non siamo ai livelli degli anni passati, ma c'è stato un incremento dei tamponi del 30%. Soprattutto sono stati richiesti con numeri abbastanza elevanti i test fai da te. C'è lavoro sull'influenza come è normale che sia in questo momento della stagione, spiega Marco Cossolo, presidente di Federfarma. Le vaccinazioni Covid purtroppo non sono mai decollate quest'anno, neanche in farmacia, avverte Cossolo. E siamo lontani dai numeri del 2021 e 2022. Ci sono regioni che hanno fatto meglio di altre. Ma conclude, il dato generale non è positivo. Bene, dovevo riportarvi questa notizia. Naturalmente la riporto in maniera settica, lasciando a voi l'opzione, la facoltà di commentare qui sotto nel video, dimmi cosa ne pensate. perché tra l'altro in giro vedo anche tantissimi ormai di nuovo con gli elementi di protezione. e volevo giusto chiedervi a voi se siete preoccupati di questa cosa o se non lo siete. Intendo se siete preoccupati del fatto che tantissime persone ritengano indispensabili i dispositivi di protezione delle vie aeree. Ragazzi, io non aggiungerò altro quest'oggi. Vi dico che ci vediamo domani per gli auguri di Natale e niente. Basta. A domani. Ciao a tutti. Volevo dire tante cose ma rimarrò zitto.